Se è uno che vende morte, per me è un lurido, è sporco, è sporco dentro ed è sporco fuori. Così l'assessore Saia Apostrofa, lo spacciatore tunisino arrestato dalla polizia locale mentre cedeva la droga in zona stazione. Proprio con lui l'esponente della giunta Bitonci qualche giorno fa aveva avuto un duro faccia a faccia. Come ha cominciato a attaccare, come dire, briga perché io lo guardavo, ma guardava anche lui, io non abbassavo lo sguardo, sono andato là a un centimetro dal naso a spiegargli che io lo guardavo quanto mi pareva. È una sciocchezza, ma di là del cinema che si è creato, però ti dai segnale di come questa gente si sente impunita, non perché uno abbassa o non abbassa lo sguardo, ma perché sanno che le leggi sono affievolite, quasi totalmente inutili. Leggi inutili, dice Saia, per certi versi assurde e inspiegabili se si pensa che il magrebino finito in manette era già stato colpito da decreto di espulsione, ma essendo anche condannato prima di lasciare il nostro paese, deve scontare la pena che prevede soltanto l'obbligo di firma presso i carabinieri una volta al giorno. E il resto della giornata? Ovviamente impegnato nella proficua attività di spaccio. Sembra una barzelletta, scrive Saia sulla sua pagina di Facebook, ma questa è l'Italia di oggi, grazie a Renzi e al ministro Alfano. Sono tutte forme di smidollamento del sistema, ma non ho certezza la pena. Qua non abbiamo la certezza, neanche che uno che combina veramente, vai, un venditore, ripeto, di morte, venga punito.